Colgo l'occasione per dare un po' un annuncio in anteprima e il Museo Barofio sarà un po' protagonista dell'estate al Sacromonte di Varese soprattutto per due aspetti. È stata donata una nuova opera al Museo Barofio, un'opera da parte di un donatore che vuole tra l'altro rimanere anonimo, è una tela del cosiddetto maestro della tela jeans, è un'opera che va ad associarsi ad un'altra presente al Museo Barofio e penso che sia un simbolo, un gesto davvero molto significativo che fa capire come questo patrimonio, quello rappresentato dal Sacromonte, sia un patrimonio di tutti, un patrimonio in cui credere e quindi contribuire anche per le generazioni future, quindi davvero un gesto che porta avanti e garantisce una valorizzazione del patrimonio. e quindi daremo annuncio insomma di questa importante donazione e per di più al Museo Barofio sarà anche aperta una nuova sala che solitamente non era aperta al pubblico, era uno studio privato diciamo, ma che conserva delle opere, degli affreschi probabilmente quattrocenteschi molto interessanti e quindi abbiamo deciso di restituirla alla fruibilità di tutti. Si è conclusa con un'anteprima locale sul Sacromonte di Varese, la prima stagione di prospettive, la trasmissione tv di interviste d'attualità che, da gennaio a oggi, ha dato voce a oltre 100 personaggi da una parte all'altra d'Italia, oltre che dall'estero, spaziando dall'economia alla cultura, dalla natura alla tecnologia, dallo spettacolo al turismo e tanti altri argomenti. Esperti che ora, suddivisi per tematiche, diverranno protagonisti della puntata settimanale di Prospettive Estive, la produzione di Varese Mese che continuerà a tenere compagnia ai telespettatori per l'estate 2021. Appuntamenti in onda ogni martedì alle 19.55 su Rete55.